Un pareggio che a sentire i due allenatori si può accettare serenamente, ma i tifosi sugli spalti non sono stati tanto d'accordo. 1-0-0 che non si è schiodato, come spesso accade quando si scontrano due forze uguali e contrarie. E oggi, contro l'Avezzano, la Sangiustesi ha confermato tutto ciò che di buono si va dicendo sul suo conto. Da parte degli ospiti un 4-3-3 che ha consentito loro di tenere costantemente in allarme i marsicani, smaniosi di cancellare la prova opaca della settimana scorsa contro il Pratola. Per farla breve si è giocato a viso aperto da una parte e dall'altra, nel tentativo, risultato poi vano, di superarsi a vicenda. Ma alla fine il nulla di fatto è sembrato risultato più rispondente a quanto prodotto sul rettangolo di gioco. Avezzano in formazione praticamente obbligata, stanti le assenze di Cerone e di Curzio, con Bisegna trequartista. Sangiustese che in avanti propone il trio composto da Cheddira, Tascini e Angelillo. Prima opportunità per i biancoverdi e al settimo, sulla battuta del primo angolo, Menna salta bene di testa ma alza troppo la mira. La replica dei marchigiani è in questo sinistro di Angelillo dai 25 metri che termina a lato con Fanti che comunque vigila con attenzione. Ancora Avezzano al ventesimo con una combinazione sulla sinistra che porta Lombardo a servire Dos Santos. La girata del brasiliano è immediata ma troppo debole per impensierire Chiodini. Trentunesimo, palla buona per Pellecchia che in area carica il destro, il suo piede meno buono, e manda a lato da ottima posizione. Un minuto dopo la scena la ruba tutta Federico Fanti che salva la propria porta con un riflesso prodigioso e un colpo di reni altrettanto importante sulla girata aerea di Tascini che già stava gridando al gol. E per chiudere la prima frazione vi mostriamo questo calcio di punizione per l'Avezzano con Persia che lancia Pellecchia, aggancio perfetto dell'Ala ma non altrettanto si può dire per la conclusione che termina alta sopra la traversa. E passiamo adesso a vedere cosa ha offerto la ripresa ma sugli spalti è opinione comune che oggi Deramo non è il solito furetto sgusciante e quasi mai il ragazzo di Archie riesce a liberarsi né per l'assist né per uno straccio di tiro e partita che rimane quindi bloccata sul nulla di fatto. Dodicesimo, calcio di punizione di Bisegna e palla che in area torna sul sinistro dello stesso numero 10 che ci prova di prima intenzione ma con scarsi risultati. Diciottesimo pericolo in area marsicana con Angelillo che di testa sta per lasciare il segno ma sbardella alla fine riesce a sbrogliare l'intricata situazione. E al ventunesimo vi proponiamo un'azione che vede protagonista Michael Deramo a nostro avviso in giornata di scarsa vena almeno per come aveva abituato i suoi tifosi nel corso degli ultimi tempi. È poca cosa ma di meglio non siamo riusciti a trovare per lui. Poi un minuto più avanti la Vezzano va via in contropiede con lo stesso Deramo che mette in azione Bisegna che a sua volta controlla, avanza e tira ma Chiodini è ben posizionato sul primo palo. Per fortuna della Vezzano quando ci sono i calci piazzati in avanti vanno anche i difensori e in una di queste situazioni è Menna che sfiora il vantaggio ma Chiodini imita il Fanti del primo tempo e arriva alla deviazione decisiva. L'ultima azione degna di nota arriva al minuto 40 quando Pellecchia prova il sinistro da posizione abbastanza defilata ma Chiodini ci mette una pezza anche stavolta e lo 0-0 rimarrà tale anche dopo i quattro minuti di recupero. Poltoncine nuove per questa intervista. Gian Paolo, le poltoncine sono comode, il pareggio forse un po' meno. Una Vezzano però con non molte idee oggi. Ma non penso perché abbiamo avuto un grande possesso palla, la partita l'abbiamo fatta sempre noi con una squadra che è molto brava anche a palleggiare infatti l'avevamo impostata di andarli a prendere alti cercando di rubarli qualche palla. I ragazzi sono stati bravi, c'è mancato solo il gol, c'è mancato il guizzo dell'attaccante o di deramo di Pellecchia però devo dire che la squadra mi è piaciuta perché è stata sempre in partita. Ripeto, va bene perché questo è il quinto risultato utolo consecutivo, la difesa non prende gol da tre partite. Sono numeri importanti per cercare appunto di raggiungere l'obiettivo. Oggi penso veramente che la partita sia stata fatta da parte nostra e ripeto c'è mancato solo il gol dove si poteva sbroccare la partita. Stefano Senigallesi, allora un pareggio che sembrava dovesse essere interrotto prima o poi invece è finito al 0-0. Che partita è stata? È stata una partita complessa, nel primo tempo direi abbastanza equilibrata, noi abbiamo giocato con buona lucidità, abbiamo palleggiato cercando di evitare la pressione degli avversari che era molto forte nel primo tempo. Con il palleggio tentavamo di allungarli per aprirci degli spazi, è stata una partita molto bella nel primo tempo e abbiamo fatto una buona gara. Nel secondo per un quarto d'ora è andata come nel primo, poi loro si sono riversati con vehemenza, noi siamo calati un pochino fisicamente perché avevamo delle difficoltà oggettive, però è un punto importante contro un avversario veramente molto forte che gioca bene, allenata da un bravo allenatore e quindi ci prendiamo il punto con grande soddisfazione.